Manca davvero poco alla cerimonia di apertura dell'Expo, un'edizione sulla quale non sono mancate polemiche, dai ritardi nella messa a punto degli stand al rifiuto di molti giovani a lavorare all'evento. Ma ad ogni modo il più grande padiglione al mondo sta per aprire le porte e in molti si sono preparati per esibire il meglio in questa importante vetrina internazionale. Il Molise non è da meno, come si evince dal ricco calendario di appuntamenti, che la regione renderà pubblico tra qualche giorno. Due i concetti chiavi che hanno guidato l'organizzazione di Milano, promuovere il territorio e offrire visibilità alle aziende locali. Il Molise è fuori dai luoghi comuni, è questa la frase che campeggerà dal 3 al 6 maggio nell'ambito di tutto food, in cui 20 aziende molisane esporranno i propri prodotti in uno spazio completamente dedicato al cibo, il tema principale scelto per Expo. Ben più lunga sarà invece la partecipazione delle aziende vinicole, ospiti a Milano al padiglione del vino, per tutti i sei mesi dell'evento. Una presenza fissa del Molise dunque, che garantirà a nove cantine una eccezionale occasione di visibilità. Altre due aziende si affiancheranno invece nella sezione chiamata Cibus, altro prestigioso salone internazionale dedicato all'alimentazione. Ma si dovrà attendere il 17 luglio per vedere il Molise indiscusso protagonista dell'esposizione universale. Per una settimana i riflettori saranno puntati sulla ventesima regione con una serie di iniziative preparate ad hoc per l'occasione. È no gastronomia dunque, ma anche cultura. La grande mostra delle regioni del Padiglione Italia sarà l'occasione di far conoscere alcuni luoghi d'eccellenza del nostro territorio, attraverso la proiezione di video sui trabucchi di Termoli, la cattedrale di Larino e la chiesa di San Giorgio a Petrella, ma anche interviste sulla transumanza. Ci sarà posto anche per le scuole e le arti visive. Il 25 maggio sarà infatti premiato un istituto molisano, mentre il Padiglione Italy ospiterà alla mostra il Tesoro d'Italia di Vittorio Sgarbi, in cui il Molise sarà presente con due opere d'arte antica provenienti dalle parrocchie di Guglionesi e Montoglione e Frentani, ma anche con alcuni lavori del giovane artista Antonio Finelli. Non resta che aspettare il primo maggio quindi, per sperare di far conoscere il Molise al mondo.